Bilancio positivo per il convegno Le infinite diversità nello spettro autistico organizzato a Roma dall'Associazione Spazio Asperger, seguito da insegnanti, psicologi, medici e genitori provenienti non solo dall'Italia, ma anche da Svizzera, Croazia, Slovenia, Germania, Francia e Spagna. Il seminario del professor Tony Atwood, massimo esperto mondiale sulla sindrome di Asperger, considerata una forma dello spettro autistico ad alto funzionamento, ha coinvolto per due giornate il pubblico, che ha acquisito nuove ed importanti conoscenze. Informarsi è infatti fondamentale per comprendere. La quarantennale esperienza del professore deriva dal contatto diretto con migliaia di pazienti. Molti Asperger, finché non sono diagnosticati ed aiutati, vivono la loro condizione con estrema sofferenza, perché affrontano la vita in modo diverso e spesso vengono isolati e stigmatizzati. Il presidente di Spazio Asperger, Davide Moscone, con la sua associazione si propone di divulgare conoscenze e cultura sull'autismo, perché gran parte della popolazione è impreparata. Ci siamo resi conto che non c'era soltanto la società da formare e da sensibilizzare al fatto che esistano persone che hanno un modo di pensare alternativo, diceva Simone prima, diverso, alternativo, ma a volte anche i stessi professionisti. Io lavoravo con l'autismo classico. Mi arrivavano dei bambini che provavano un funzionamento un po' più alto, e quindi che avevano queste diagnosi di GS, disturbi igienizzati o sviluppo non altrimenti specificati, che non si capiva proprio che diagnosi erano, nel senso che non stavano proprio nei manuali diagnostici, erano veramente dati alla creatività dei clinici. E quindi mi sono reso conto che quello che mi hanno insegnato sull'autismo classico non si adattava del tutto bene a questi bambini così particolari, ma intelligenti. Leggendo Tony Atto da lì mi si è aperto un mondo, ho detto questa persona mi sembra che ha capito questo tipo di bambini che io vedo. L'autismo è una condizione, non una malattia, della quale per il professor Atwood si può soffrire solo per l'atteggiamento degli altri. Il consiglio del vicepresidente David Vagni ai genitori che scoprono di avere un bambino autistico. La prima cosa da fare, al mio avviso, è accettare di avere un bambino autistico. E' un processo delicato, difficile, che li può richiedere del supporto. Ed è giusto il Sacro Santo chiedere prima del supporto per se stessi, se non si riesce ad accettare il proprio figlio, e poi iniziare a pensare al bambino. Perché altrimenti sarà tutto inefficace. Dopodiché, una volta che c'è l'accettazione, può nascere l'impegno, l'impegno per migliorare la propria qualità della vita e la qualità della vita dei propri figli. La cattiveria, il pregiudizio e l'ignoranza in ogni ambito della nostra società hanno effetti davvero devastanti in chi viene additato come diverso. Simone, 33 anni, due lauree. In procinto di ottenere la terza in psicologia, un anno fa la diagnosi di sindrome di Asperger, con la sua testimonianza, nella quale ha parlato del passato, della solitudine, di domande senza risposta e di vessazioni subite, ma anche dei suoi momenti felici, ha colpito l'intera platea, alla quale ha regalato grandi emozioni ed un meraviglioso cielo stellato. E' quindi fondamentale capire che il mondo sarà sicuramente migliore, riconoscendo, apprezzando e valorizzando le eccezionali peculiarità di persone che non pensano, come dice Simone, in modo diverso, ma alternativo.